Bello il filmato, avete visto come tante volte si riesce a capire, comunque il bambino aveva fatto capire che la madre aveva bisogno di aiuto e la madre con le scarpe rosse. Un bel filmato, sappiamo che i carabinieri sono sempre al fianco dei cittadini. Vi parlavo della panchina rossa, vedete le dune, l'InterSpar, le dune che l'ha sistemata all'entrata laterale, ed è un segnale, anche questo, complimenti, ma vi ricordo che hanno anche operato un'assunzione di quattro donne in difficoltà. In difficoltà ci sono anche gli azionisti della Banca Agricola Popolare. Oggi c'è stata un'altra protesta, un po' sottotono perché si è messa a piovere dalle 10 all'1 davanti alla sede della Banca Agricola in via Archimede. Però devo dire che, come accade anche in politica, ora la protesta si è divisa, è stato come le trombe d'aria della scorsa settimana. Uno va da questa parte e uno da quest'altra parte. Non c'è per esempio Salvatore, come si chiama, in questo momento non mi viene in testa, e dall'altra parte c'è un avvocato che sta guidando una protesta di una parte degli azionisti. Perché? perché c'è questa divisione? Perché quelli da una parte hanno capito che probabilmente non si può spingere oltre, non si può andare oltre, perché ci sono delle regole ben precise, no? E quindi una volta che ci sono le regole non si può tirare il collo fino a un certo perché la banca alla fine potrebbe anche peggiorare la situazione. Gli altri invece insistono. allora il problema è che la banca agricola comunque sottostà delle regole. Io sono un azionista, io no, mia moglie è un azionista che ha comunque, diciamo, è dispiaciuta, poca roba, ma ci sono quelli che hanno i milioni e che non li possono muovere, sono fermi lì chi ha 10 mila Euro alla fine dice vabbè questa è la vita, no? Ma gli azionisti continuano a sperare che ci sia un cambiamento. Ora a quanto pare il cambiamento potrebbe avvenire nel tempo via via aumentando la disponibilità che la banca mette in campo per comprare a poco a poco le azioni. Ma è una cosa che non è sicura e che comunque non garantisce praticamente nessuno. Quindi chissà come va a finire. Chiudiamo il nostro telegiornale. Come lo chiudiamo? Vediamo una cosa un po' particolare perché ci dedichiamo alla musica. Anzi prima vi dico, avete visto che il tempo è brutto, c'è anche un allarme giallo, ma insomma non sembra sia particolarmente preoccupante, però anche domani sarà a tempo brutto. Allora dicevo come chiudiamo? Abbiamo intervistato un tenore, un tenore napoletano che ha, essendo compatriota di Enrico Caruso, ha fatto un film con la sua voce, bella voce, un film su Caruso e lo ha dato alle televisioni, quindi noi lo abbiamo e ve lo trasmetteremo stasera subito dopo il telegiornale perché è un film dove ci sono belle canzoni, quindi fa certamente piacere. Però nello stesso tempo vi facciamo anche conoscere l'artista, l'artista che appunto si chiama Guida, si chiama Antonio Guidi, che Gianni Papa ha intervistato e alla fine del telegiornale ci sarà il film che hanno realizzato a Napoli sulla vita di Caruso. Bene amici, grazie per la cortesia attenzione, sentite Gianni Papa, poi la sigla dell'indice e alla fine il film su Enrico Caruso. Grazie, ci vediamo con la prossima edizione. Ciao a tutti.